Ritengo che questo tema fondamentale, focale da discutere in maniera sempre più ampia abbia necessità di reti multiattoriali e multinivello per riuscire a governare la complessità del tema senza riconoscere e fare i conti con questa complessità. Ogni intervento rischia di essere inefficace o troppo parziale. Quello del gioco d'azzardo e poi l'usura, fenomeni già di per loro complessi dove si generano effetti moltiplicatori nel combinarsi, sono patologie di sistema. Non sono degli effetti indiretti e non voluti, ma sono profondamente connessi con i modelli normativi con i quali ci confrontiamo ogni giorno. E questo fa sì che troppo spesso ci sia un effetto di normalizzazione di questo problema che non viene neanche percepito come problema. E se questo riguarda noi adulti, immaginate cosa stiamo rischiando di fare ai nostri ragazzi. Per cui discutere in maniera schietta, diretta, scientificamente fondata, perché abbiamo bisogno di categorie importanti con le quali non commettiamo l'errore di pensare che i nostri ragazzi non siano all'altezza dei nostri discorsi. I nostri ragazzi hanno soltanto bisogno di chiarezza, di essere netti e di interloquire con persone che credono in quello che stanno dicendo, fuori da ogni retorica.